Allora ragazzi e ragazze, signore e signori, adesso andiamo proprio con la moda, perché iniziamo con la sfilata di Bottega d'Oro 10 gioielli, perché questa sera ci ha regalato e ci vuole regalare qualcosa di diverso da quello che abbiamo visto fino ad ora, perché non solo oro e diamanti, ma appunto Bottega d'Oro si rivolge anche a tutti gli appassionati di orologeria, ma noi abbiamo delle donne che li indossano questi gioielli questa sera, questi orologi. Da oltre 20 anni appunto Bottega d'Oro è concessionario di Lorenz, marchio d'orologeria italiano che da sempre non sono gli appassionati e questa sera appunto vedremo sfilare al posto le nostre prime ragazze, le prime appunto che vedremo uscire dalla pasterella, alcuni dei modelli da Donna Lorenz che potete trovare sul sito in sconto del 10% care donne, quindi mi raccomando approfittate. E poi invece vedremo gli altri modelli che fanno parte della collezione vintage che appunto sono disponibili sempre da Bottega d'Oro. E allora iniziamo con un bel applauso per queste proposte, questi orologi fantastici che potete trovare appunto da Bottega d'Oro. Bottega d'Oro. Bottega d'Oro. Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti. Ciao a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. 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 a tutti.